Ok, sono pronti, quindi fatemi sentire, fate un bell'applauso, folk in peace! Buonasera a tutti! Ora una trasposizione, trasposizione bellissima, in genovese c'è un pezzo famosissimo che non vi stiamo neanche a presentare. Ci siamo? Maestro Bertani? Maestro, va bene. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Sì, beh, che non sia la vita Sì, non lo voglio dare Sì, che non sia la sua Sì, che non sia la sua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti